L'art Quella strana sensazione del movimento della materia che ci avvolge e coinvolge L'artista Quell'essere pieno di energia che aggiunge e congiunge punti con linee di forza che obbligano a vedere oltre la noia della costante ripetizione Un sentito grazie a tutti voi che indifferenti alle lontanze fisiche mi regalate visioni dell'immensità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti